Le autorità locali, comunali, provinciali e regionali hanno dimostrato la loro contrarietà a questo luogo, a questo luogo. Quindi noi non lo vogliamo, insieme a tutte le associazioni di migranti, insieme al contramente migrante, insieme a compagni che sono venuti da Brescia, Crosspoint, tutti quanti per dare soltarietà a noi. Ma non è soltanto una soltarietà, è un dovere, perché giudere i cieli di Bologna è un atto di civiltà. Noi non vogliamo luoghi dove i migranti vengono vincisi, vengono impediti di esercitare la loro libertà, di avere la dignità in questo paese. Ecco perché siamo tutti qua oggi per dire no a questo luogo. Ci batteremo, questo è soltanto un inizio, perché noi, io non voglio distruggare il canzotto su GPD, ma neanche i centrali che sono qua. Nessuno vorrà all'ora e nessuno ci andrà più, perché ci batteremo fino alla fine, ci batteremo fino alla fine. Perché noi non lo vogliamo questo luogo, noi non vogliamo uno stato dove i migranti vengono discriminati, i migranti vengono venuti giudici, i migranti vengono venuti giudici, per soltanto una colpa, di non avere un pezzo di carta, un pezzo di staggiorno. Nessuno è lato, non interviste le staggiorno. Noi diciamo di no, noi diciamo. Oggi e poi ci mobilizzeremo, ci passeremo, con gloria fortuna di questo centro. Migranti, italiani, cittadini, tutti quanti, perché tutti hanno capito che questo c'è, è la vergogna di questo città.